riprendiamo la nostra trasmissione la casa della salute incontriamo la professoressa eleonora porcu professoressa di ginecologia e ostetricia all'università di bologna allora professoressa la fertilità femminile naturale confini e limiti l'età migliore per avere dei bambini l'età migliore è prima dei 35 anni di fatto la fertilità massima si ha intorno ai 20 25 anni nella nostra specie perché alla fine gli ovuli cominciano a calare e dopo i 35 anni calano in modo molto rapido quindi sarebbe bene cercare di avere un bambino prima di quell'età questo per la fertilità femminile e la fertilità maschile naturale anche lei ha dei limiti beh la natura è stata crudele con noi donne e molto generosa con voi uomini gli uomini non hanno una cessazione totale della produzione degli spermatozoi quindi teoricamente anche a 80 anni anche finché vivono potrebbero riuscire a concepire è chiaro che la qualità del seme comunque con l'avanzare dell'età si riduce anche nell'uomo l'infertilità femminile le cause quali sono le cause possono essere legate all'apparato genitale e quindi ad esempio le tube che portano ovuli e spermatozoi e che riescono a consentire il concepimento potrebbero essere chiuse o danneggiate e questa è una causa frequente e importante poi ci possono essere cause uterine può essere un utero non capace di portare avanti una gravidanza oppure cause ormonali cioè l'incapacità di far maturare un ovulo e quindi di mandare i segnali dal cervello e dall'ipofisi che è una ghiandola che sta nel cervello alle ovaia per dire fate produrre un ovulo che poi possa essere fecondato questo per le donne e per gli uomini cause dell'infertilità maschile ci possono essere delle cause congenite ad esempio ipogonadismo ipogonadotropo non ci sono ormoni sufficienti a far maturare e crescere gli spermatozoi nei testicoli oppure ci possono essere cause meccaniche ad esempio la impossibilità di far passare gli spermatozoi dall'interno dei testicoli all'esterno attraverso il pene durante le eiaculazioni in quel caso si parla addirittura di azospermia cioè assenza totale di spermatozoi mentre nei casi meno gravi si parla di oligo asteno teratospermia una parolona che significa pochi spermatozoi poco mobili e certe volte anche malformati le terapie le cure nelle donne che hanno infertilità se si tratta ad esempio del problema ormonale quello che dicevamo prima per ultimo quindi l'incapacità di far avvenire l'ovulazione ci sono al giorno d'oggi ormai da parecchio tempo ma sono stati molto ben profezionati dei farmaci chiamati soprattutto gonadotropine che sono gli stessi ormoni che noi donne produciamo in modo naturale che possono essere somministrati alle donne attraverso punture iniezioni eccetera e che possono stimolare la crescita e lo scoppio dei follicoli quindi la produzione dell'ovulazione oppure se invece ci sono dei danni a livello dell'apparato genitale ad esempio le tube chiuse può essere indicata una fecondazione extracorporea in vitro nella quale si bypassa il tragitto di tuba che chiaramente non è più funzionante si fa la fecondazione in provetta e poi si mette l'utero e l'embrione dentro l'utero questo per le donne e per l'uomo cause di infertilità cure quali sono dunque per l'uomo ci possono essere nei casi appunto di mancanza di ormoni eccetera anche eh in questo caso una terapia eh con gonadotropine eh soprattutto FSH che è l'ormone eh che eh stimola nella donna eh l'ovulazione nell'uomo la crescita e lo sviluppo degli spermatozoi altrimenti ci possono essere eh una serie di eh sostanze di integratori ma anche ricordiamoci dei comportamenti importanti che possono facilitare eh la e e contrastare eh l'alterazione degli spermatozoi che sono ad esempio smettere di fumare eh non eh stare troppo seduti non eh esporsi a temperature elevate nella zona perineale tutte cause che possono eh ridurre il numero di spermatozoi e questo diventa veramente un comportamento eh terapeutico nel caso estremo in cui non si riesca a far passare gli spermatozoi dal testicolo al pene all'esterno ci può essere invece un trattamento più complesso che è quello di andare a prelevare gli spermatozoi con una biopsia direttamente dal testicolo e usarli poi per fare una fecondazione in vitro in provetta in in laboratorio le cause dell'infertilità che il nostro paese sta vivendo in questi ultimi anni o decenni quali sono sociologiche antropologiche fisiche che sta succedendo? Eh dunque ci sono in parte alcune eh eventi eh fisiologici che sicuramente hanno peggiorato l'incidenza delle della fertilità ad esempio fumo di sigaretta è una causa che aumenta l'infertilità ehm l'obesità o le magrezze patologiche aumentano la la l'infertilità eh l'inquinamento ambientale aumenta l'infertilità ma sicuramente una delle cause più importanti è il differimento lo spostamento in avanti della decisione genitoriale e questo perché nella donna come abbiamo visto prima più si va avanti nel decidere di fare un bambino più le possibilità diminuiscono quindi eh il fatto di non avere più la possibilità eh la la scelta per motivi sociali economici eh comportamentali eh di fare un bambino a venti venticinque anni come succedeva una volta è paradossalmente una causa di infertilità eh legata a motivi fisiologici ma è sicuramente la più importante e pesante la più responsabile del calo demografico della nostra epoca. I falsi miti sulla procreazione assistita, le illusioni, le speranze, gli errori che si fanno, i falsi miti? Beh questo agganciandoci a a quanto detto proprio eh Aurora è paradossalmente uno dei motivi di infertilità perché? Perché le coppie e soprattutto le donne pensano eh assillate dal problema magari della casa eh del trovare un lavoro soddisfacente eccetera eccetera eh pensano beh aspettiamo ad avere un bambino spostiamoli in là tanto c'è sempre tempo e alla peggio possiamo fare la fecondazione assistita. Bene questo non è vero lo affermo con grande energia e potenza perché la fecondazione assistita è utile soltanto nel caso in cui ci siano delle cause reali che possono essere bypassate ma di fatto non riesci in nessun modo a contrastare il problema fondamentale che è quello dell'età. Quindi una donna a 40 anni che non riesce a concepire non è che dice beh vabbè faccio il trattamento in provetta e siamo a cavallo. No perché gli ovuli sono sempre quelli hanno la stessa età della donna cioè 40 anni e hanno ridotto la loro capacità di generare un bambino e soprattutto un bambino sano e normale. A presto da Lundbeck Italia Don Pe FB Vision Agaton Essential Medicines Signa Widex Human Assist Care Alpha Sigma Grazie a tutti